Per favore, disperdetevi! Per favore, disperdetevi! Di pure addio ai tuoi mostriciattoli, Dion. Cioppi! Cioppi! Aiutano, che cosa gli succede? Credo sia la CPU! Cioppi! Non toccarlo, bastardo! Vaffanculo! Stata indietro! Va bene, va bene, d'accordo, d'accordo, ma tu sta calmo! Sta tranquillo, amico! Stai indietro! Lo porto via da questo posto! Salute to Maru, Iga Hala e Maru! Due assi! Che cosa vuoi? Ippo non ci crederai mai. I robot sono tutti spenti. Sono serio? Sì, qui si è aperta la stagione di caccia. Ho capito, ho capito! Ehi, Tula! Quei porci di robot sono a terra, sono offline! Questa città adesso è mia! Ve la voglio prendere tutta! Andiamo! 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 Che succede? Regna il caos in centro da quando tutti gli androidi della polizia metropolitana in servizio si sono spenti. La polizia sudafricana non si è ancora pronunciata ma la città in queste ore è veramente allo sbatto! Entrate nelle vostre case o verranno usati i proiettili di coppa! Per il favore disperdetevi! Per il favore disperdetevi! A polta terra! Sì! 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 Trovate Michelle Bradley immediatamente! E richiamate gli agenti umani, compresi i riservisti! Che cosa aspettate?! Guardate! Sicuro di voler cancellare Genesis? Sì, sono sicuro. Sì! Sì! Sì!